Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, oggi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto per i saldi invernali qui subito finite le feste di Natale e dell'Epifania, wow, fantastico, veramente, sono troppo contenta e non mi era mai capitato di sfruttarli così al massimo, mi sono sempre ridotta all'ultimo, andare a vedere i saldi invece questa volta mi sono organizzata, prima mi sono detto vai e vediamo cosa c'è, acquisti top, adesso ve li faccio vedere il primo è questo, cioè questi leggings viola che per di più sono fantastici, non segnano niente in assoluto avevo paura che segnassero così un po' di cellulite, un po' di ritenzione idrica, sì, invece no, zero poi sono fantastici perché hanno praticamente il fascione alto che tu puoi gestire come vuoi e io nel mio caso ho scoperto che lo lascio tutto spiegazzato, doppio sulla pancia e mi fa impazzire ho in mente l'outfit per questi, però adesso ho la roba da lavare, quindi ve lo farò casomai vedere vi farò un reel su Instagram, quindi ovviamente vi ricordo di seguirmi anche su Instagram e niente, potete scrivermi anche in direct su Instagram così piano piano ci conosciamo e niente, ve lo farò vedere, però sono top, io li adoro a parte che li volevo, li cercavo già da un sacco e quando li ho visti ho detto no, niente, sono miei devono essere miei, quindi presi subito, gli ho dato la commessa e ho detto questi alla cassa visto che li avete già visti su Instagram nelle stories e mi avete già chiesto dove li avessi presi sono di matinee, questo qua, by Chiara Biasi e sono fantastici, io ve li consiglio perché wow veramente formidabili e allo stesso tempo ci sono tante altre cosine tra cui anche body e costumi quindi assolutamente andate a vedere il sito perché io acquisterò altro sicuro al 100% poi sempre da Fabri Boutique dove ogni tanto una volta all'anno ovviamente passo e cerco di andarci con gli sconti, ho preso questi pantaloni bellissimi, cioè non so se li vedete sono a vita altissima, larghi nella gamba e poi sono morbidissimi, cioè mi sono piaciuti un sacco l'unica cosa che la taglia è la mia, se ce la faccio a chiudere il bottone la taglia è la mia, però se mi gonfio è finita, cioè non ne veniamo più fuori però vabbè, bellissimi veramente, belli belli belli, adoro, fantastici, bel tessuto, proprio bello mamma mia, cioè già così stanno da dio, ma ovviamente sopra ci ho preso, che loro hanno detto anche che le avevano messo, avevano fatto l'abbinamento proprio in vetrina e questo splendido, ma neanche maglione, felpa allora, è una felpa proprio udi, cioè è veramente confi, è enorme, si vede addirittura potremmo anche tirarla giù, però adesso a me le felpe giù non mi sono mai piaciute più di tanto, però sicuramente con una sottoveste bianca o comunque una maglia è più lunga sotto, ci starebbe benissimo, ovviamente dei jeans skinny, però se no sta così di suo e io adoro, mi piace tantissimo, poi vabbè, io impazzisco per questo l'unica cosa che mi ha fatto strano è stato il colore, cioè ho detto, se ci fosse stato un bel grigio chiaro o anche bianca, secondo me sarebbe stata perfetta, no, ce l'abbiamo solo di questo colore, è stranissimo, perché è stranissimo, ma noi l'abbiamo abbinato insieme in vetrina, ok, ho detto, va bene, se dite che si può abbinare, ma effettivamente sì, cioè ci sta alla grande, vabbè, adoro, poi vediamo se riesco a almeno metterlo, oppure tipo dentro di lato, ma tipo così, vabbè, ciao, comunque adoro, e poi questa felpa la puoi mettere ovunque su tutto, quindi fantastico, wow. Dopodiché potevamo non andare da Zara? assolutamente no, cioè, vuoi non passarci? Sì, dovevamo vedere cosa c'era, io odio i saldi da Zara perché la gente tratta la roba malissimo, non si trovano le cose, sono tutte per terra, sparse, trattate male e vabbè, vado in tilt, però con santissima pazienza ce l'ho fatta, e niente, mentre ero lì, ho visto questo maglioncino crop, grigio chiaro, ho detto, no, Ilaria, sì, sono andata con l'Ilaria, volevo portarvi con me, ma poi pioveva, poi ho pensato che comunque là ci sarebbe stato un casino allucinante, quindi sarebbe venuto più complicato che altro, e quindi ho detto, vabbè, vi faccio vedere dopo i saldi, però quando ho visto questo ho detto, no, Ilaria, se lo mettiamo con i pantaloni, riprende le righe, top, adesso ve lo faccio vedere, alla fine ci ho azzeccato anche come misura, cioè guardate, perfetto, veramente, cioè, è il suo, cosa non è? È il maglione perfetto per questi pantaloni, ma ovviamente se trovi la giacca che sta abbinata a tutto, non la prendi? Certo, e sempre da Zara ho provato questo piumino oversize alla Alibiber, adoro, veramente adoro come porta lei l'oversize e quindi ho detto, beh, cosa facciamo? Non lo prendiamo per 30 euro? Assolutamente sì, è bellissimo, è veramente stupendo, e niente, è tutto metallizzato così, un grigio, un grigio petroglio, un grigio molto scuro, ok? Ah, è bellissimo, adoro, mi piace un sacco, cioè, vabbè, ciaule. Per finire, l'ultima chicca che avevo già addocchiato, ma non pensavo avrebbero messo in saldo e quindi avevo già abbandonato le speranze, mi ha stupito, perché invece era scontata e anche proprio del 40%, quindi, ok, o la prendevo, o la prendevo, o la prendevo. E sto parlando della Carrie. Sì, ho preso una borsa. Allora, io l'avevo vista in vetrina e mi aveva fatto molto impazzire, ok? È così, è tutta borchiata, e c'è il cavallino qui, ed è molto, molto strong, e a secchiello, vabbè, adoro, mi piace veramente un sacco. Poi al suo interno ha anche la tracolla, adesso la mettiamo, quindi la possiamo portare giù, a mano, ok, a spalla, ok, e poi anche con la tracolla, a me piace molto così, devo dire che mi piace, oppure come le porto sempre io, perché sono più comode e preferisco, però, in tutti i casi, io l'adoro, mi piace veramente tanto. C'è anche un'altra cosa al suo interno, che adesso vi faccio vedere, ed è il portachiavi, eccolo qui, guardate. fantastica. No, vabbè, ciaone. C'era anche verdone, era bellissima, però io il verde l'uso pochissimo, quindi ho detto no, vabbè, preferisco averla nera, sono sicura di utilizzarla al meglio. Ciao, ne raga, wow, veramente. Ragazzi, mamma mia, questi sono stati i miei saldi, bellissimo, tutto al 40, quindi tutte cosine che costavano un pochettino e così le ho prese, veramente a prezzi accessibilissimi, ma allo stesso tempo forse anche molto meno di quello che potevano valere, quindi sono troppo, troppo contenta. Wow, veramente. I singoli capi che ho preso sono questi, che ho fatto vedere alcuni abbinamenti, ma bene, voglio far vedere un altro che ho scoperto ieri così mentre li provavo, e quindi un secondo che mi cambio di nuovo. Ok, volevo farvi vedere anche il maglione sopra i leggings, come sta bene, perfetti, una bella scarpa da ginnastica e uno è a posto, confi, da stare in casa, da uscire, fare le commissioni, wow, adoro, veramente top. Ragazzi, e anche per oggi il video finisce qui, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere i vostri saldi, cosa avete preso, cosa aspettavate di riuscire a trovare e comprare, ovviamente risparmiando qualcosa e mi raccomando, seguitemi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video, ciao!